Fedez pubblica una storia dedicata a Ferragni ma poi cancella tutto. Cosa sta succedendo fra Fedez e Chiara Ferragni? Da diversi giorni si rincorrono ormai inclementi e rumor circa una forte crisi fra i due dopo il bacio che il rapper si è scambiato con Rosa Chemical sul palcoscenico dell'Ariston. Durante l'esibizione di quest'ultimo al Festival di Sanremo. Dopo la performance canora, ha iniziato a circolare sul web una clip in cui si nota una Ferragni visibilmente arrabbiata con il marito. Da quel momento in poi, il silenzio. L'imprenditrice digitale ha continuato a essere molto attiva sui social, di Fedez. Sul suo profilo Instagram, nemmeno l'ombra, o meglio, nemmeno una citazione. Sono davvero i ferri corti? E sarà stato davvero solo quel bacio a scatenare l'inferno? Al momento non è dato saperlo, sebbene le voci hanno iniziato a circolare sempre con maggiore insistenza. L'ultima mossa social del rapper ha poi iniziato ad alimentare ulteriori dubbi sulla situazione attuale della coppia. Poco fa, il cantante ha pubblicato una storia dedicata a sua moglie, che ha poi cancellato. Fedez ha citato una frase tratta dalla canzone Favorisca i sentimenti, brano che il cantante dedicò a Chiara il giorno in cui le fece la proposta di matrimonio. Si poate-ti dau totul peste cap, ca poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă imbrac la costum, poate nu-mi spun minciuni, sunt liber sa fiu stapan. Pe ce fac si ce spun, stii? Nimic nu mai e la fel, copilaria s-a maturizat sever. S-a lovit pana acum de fel, de fel, de oameni, de păreri, anti pur de caracter. Si vad cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar vad si altii care lupta incercand sa mute mulți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor sa ajunga tot mai spus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei.